Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Poiché nessuno dei due poteva pagarlo, condonò il debito ad entrambi. Ora dimmi Simone, quale dei due pensi non verrà di più? Penso quello a cui l'ho condonato di più. Hai ragione, e allora vedi questa donna? Ma, io sono entrato in casa tua, tu mi hai accolto cortesemente, ma non mi hai lavate i piedi. Lei ha preso le bagnate di lacrime e mi ha sciocato i miei capelli. Tu non mi hai cosparsi al capo di un quinto, lei invece mi ha cosparsi ai miei piedi. Ebbene, io ti dico che se molti peccati ne sono stati perdonati, per il grande amore che hai dimostrato.